Musica 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 Che bello La volo è andandissimo a presto Applausi! Ciao! Vira Pilandia! Vira Pilandia! Vira Pilandia! S избroкої reunions around the stage and the izquierda of the table. They arrived smokers... Don't forget to do it! Don't forget it! Again, you can place the side of the mej and thelä 那么 Battle see me not with my eyes. So very hard when the water Rafaelrtel который breeorry here! Thissons! Don't forget that one day. Oh probably visit her side now. Michele, a forza Non è come una testa, ma tutto è sotto controllo Attenzione, adesso la terra crema Oddio, il terrenoto Michele Michele, Michele Guarda Ciao Meglio se stiamo così in alto Fermi, dici stabili Sì Puoi salire i 100 C'è il maialino Guarda un po' C'è il tempo C'è il tempo E ci vediamo Lecci vediamo La scuola Il numero 2 A un paese Ma, non, che venga No, non, che venga Sì, non è vero. Attenzione che cadiamo là sotto! Benvenuti a Dinoland, la più grande area dedicata al mondo dei dinosauri mai costruita da un parco di divertimenti italiano. Qui potrete incontrare ferodattili, tirannosauri, brontosauri, triceratope e tanti altri. Al teso di essi fa la guardia il potente e maestoso Mirasauro che domina il mondo. Eccolo! Oh, sale sale! Mamma mia! Eccolo e eccolo e arrivano! no è molto alto pedala pedala se non pedali non sali il campione sei il campione sei la la Grazie a tutti. 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 Ma è tutto così, bello calmo e tranquillo? Non tanto. Per un certo periodo. Quindi è meglio che poi ti telefono. È la prima di sciofalo, è facile. Vai, Lele, sterza un po', brava. Vai, 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 vai. No, 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 no. No, 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 no. Eh, è bello, è bello. La posizione è bellissima. La posizione è bellissima. La posizione è bellissima.